La Giunta di Eboli ha approvato i progetti esecutivi di due rotatorie lungo la Statale 19 al fine di migliorare la circolazione ed aumentare la sicurezza. Le due rotatorie saranno realizzate nella zona ceffato Epitaffio. Il prossimo passaggio sarà l'indizione del bando di gara per la realizzazione di due opere pubbliche importanti per la viabilità soprattutto per chi proviene da sud. Completiamo gli interventi previsti dal programma Piano delle Città, ricorda il sindaco Massimo Cariello, garantendo un nuovo ingresso alla città e sistemando la circolazione stradale in termini di sicurezza.